L'idea di farlo diventare un punto d'incontro per tutti quanti, tutto ciò che avverrà in questo circolo sarà solo delle discussioni a titolo gratuito. Non ci sarà nulla che deve essere a carico di vicine a trovare. Un'altra iniziativa che vorremmo fare tra le altre cose è mettere a disposizione i locali anche per eventuali feste di compreanno, per esempio per famiglie che non ce lo possono permettere e a qui appunto daremo a titolo per lui la sala per l'utilizzo. Questa è un po' l'idea.